Terzo fine settimana di agosto da Bollino Rosso all'insegna degli spostamenti e dei primi rientri verso le grandi città. Sotto la lente per il costante aumento dei flussi di traffico, in vista dei primi rientri, la rete autostradale per il territorio aretino, l'autostrada del Sole. In previsione dell'aumento del traffico, ANAS presidierà la rete per mantenere fluida la circolazione con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento e la massima riduzione del numero dei cantieri attivi lungo la rete. 3 su 4 sono stati fermati fino al primo weekend di settembre. Per la situazione dei cantieri inammovibili, ANAS invita tutti a consultare prima di partire il sito stradeanas.it. Il Bollino Rosso sarà fino a tutta la giornata di domenica 20 agosto. Gli spostamenti in crescita saranno ovviamente verso le grandi città. Dalle 8 alle 16 di sabato 19 e dalle 7 alle 22 di domenica 20 sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti.